Buongiorno, la riflessione che condurrò adesso su questo tema della paura che alcuni di noi colleghi che insegnano letteratura italiana abbiamo individuato come contributo al festival è dedicata dal mio punto di vista a dante in particolare all'inferno di dante che sta un po all'origine di tutto il tema della paura e dell'orrore che ne consegue anzi dell'orrore che provoca poi paura e terrore è un tema che come tutti noi sappiamo è dilagante non solo nella letteratura di oggi ma nella televisione nel cinema in particolare nella grande tradizione anglosassone direi che è un'infinità di titoli si possono evocare io parto proprio da questi giorni in cui su sky è cominciato una serie televisiva che ha un molto bella peraltro che ha un titolo emblematico love and craft country cioè una serie televisiva che parla di tratti efferati e terribili nell'america razzista degli anni 50 a partire da riferimento alla contea dove dove era nato e dove collocava le sue azioni il grande maestro dell'oro love and craft la tradizione non moderna della linea horror della letteratura si può dire che cominci con il grande love and craft e prosegue poi ininterrottamente nella cultura americana inglese europea fino ai giorni nostri e uno dei grandi maessi maestri indiscussi dei nostri tempi come tutti conoscete e che tutti sapete e stefan king ma possiamo arrivare anche a tutti gli autori di graphic novel di moltissime di moltissimi paesi nel mondo naturalmente il film e la televisione fanno la parte del leone pensate solo a tutto quello che ruota intorno alla cosiddetta festa di halloween con tutto quello che comporta dal punto di vista della della paura del terrore del del dell'arrivo di mostri di di fantasmi dall'oltre tomba oppure c'è anche l'orrore legato alla comparizione di mostri e di eventi che destano terrore nel in chi ascolta o in chi legge quindi un grandissimo filone che che domina l'immaginario moderno e contemporaneo che noi potremmo appunto associare alla letteratura diciamo all'inizio del romanzo gottico dell'ottocento e poi arrivare per arrivare ai nostri giorni ma in realtà tutto questo ha una data d'inizio ben precisa e un'influenza che ancora permane fino ai nostri giorni e anche a queste prove che noi abbiamo nei nostri tempi e cioè l'inferno di dante leghieri in realtà l'inferno di dante leghieri che se lo vediamo da quest'ottica è una vera e propria galleria dell'orrore si può dire che anche la straordinaria parola l'orrore che ricordo che ricorre nel grandissimo romanzo di conrad appunto cuore di tenebra è una reminescenza nel novecento di questa categoria da già dantesca l'inferno di dante viene scritto da dante anche per creare paura e terrore il fedele di quell'epoca il cristiano di quell'epoca doveva sapere a cosa sarebbero stati destinati sarebbero stati destinati per le loro colpe i peccatori e quindi l'inferno è naturalmente una grandissima prova letteraria ma naturalmente ha come fine neanche tanto nascosto il fatto di dover incutere timore terrore paura in chi lo legge fin dalle prime terzine fin dall'inizio dante infatti si perde in una selva oscura come tutti voi ricorderete una selva terribile tenete conto che tutta la letteratura moderna e contemporanea il cinema la televisione spesso ambientano azioni thriller horror di varia natura inquietanti dentro delle selve boscose quindi dante individua già seppure vi è dietro tutta un'allegoria una simbologia la selva oscura come luogo di perdizione e di paura tanto che gli vengono incontro delle belve fameliche e addirittura a un certo punto incontro un fantasma di cui lui all'inizio ha paura poi invece riconoscendo in quel fantasma il suo maestro virgilio si rassicura perché virgilio gli promette che lo tirerà fuori dopo un lungo viaggio da quella terribile selva che è l'inizio del suo viaggio nell'inferno quindi fin dai primi versi della commedia il lettore ha paura il lettore di quell'epoca e noi stessi oggi leggendolo sentiamo questa sensazione di disagio che il mondo del peccato e del terrore producano naturalmente appena dante e virgilio entrano all'inferno accade una cosa molto singolare dante e virgilio incontrano anime di defunti che non hanno ancora il loro corpo che è stato sepolto che questo avverrà alla fine dei tempi però incontrano una sorta di corpi virtuali dei veri e propri avatar del corpo che hanno abbandonato sulla terra le anime defunte che però subisce le stesse pene le stesse torture le stesse sofferenze che patirebbe un corpo reale quindi in realtà dante assiste a delle torture a delle lacerazioni a delle violenze che vengano esercitate su dei corpi l'inferno è anche la cantica di dante dedicata ai corpi e i corpi sofferenti torturati martoriati in un crescendo di paura e di orrore che dante sarà suscitare nel suo pubblico di lettori del tempo come di ogni tempo se noi andiamo a vedere uno dei primi canti dove questo si manifesta con molta evidenza ci troviamo già immediatamente di fronte a una delle visionarietà sanguinose e che sono state rappresentate e io vi farò vedere qualche illustrazione da due grandi artisti tantissimi artisti hanno illustrato dante pittori come potete immaginare disegnatori grafici in tutte le epoche ma due in particolare all'inizio dell'ottocento william blake in inghilterra e poi nel pieno ottocento in francia gustave doré hanno dato illustrazioni straordinarie molto diverse fra di loro ma molto emblematiche della dell'inferno di dante in particolare le illustrazioni di gustave doré sono diventate popolarissime famose anche appunto a livello popolare e hanno costituito l'archetipo di tantissimi illustratori poi anche di graphic novel moderni che hanno preso spunto dagli episodi di dante il canto in cui ci imbattiamo con le prime diciamo scene sanguinose a cui dante assiste è il canto degli assassini ovvero il dodicesimo del dell'inferno dove sono condannati non solo gli assassini ma anche i tiranni questi tiranni sono naturalmente qui ne vediamo una rappresentazione molto pittorica e colorata di blake sono sono costretti a essere sommersi dentro un sangue bollente da cui non devono riemergere ogni tanto tendono a riemergere da questa bolgia piena di sangue bollente quindi già impressionante di per sé il sangue domina costantemente coloro i quali nella vita si sono macchiati dello spargimento terribile di sangue tenete conto che l'orrore non è legato solo all'immaginario ma ripercuote ricorda l'orrore che tutti che tutti possono aver conosciuto infatti realmente accaduti quindi l'orrore la paura riflettano sempre qualcosa che è inventato da un poeta da uno scrittore ma si ritrova poi nella vita nei ricordi negli eventi accaduti le guerre le torture no le 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 stermini e anche quindi le stragi perpetrati dai tiranni e dagli assassini ancora più esplicito è e invece gustave doré che appunto ci ci rappresenta questa scena famosissima del dell'inferno dove i centauri figura mitologica inseguono con degli ricordiamo che dante ha questa straordinaria invenzione di collocare come guardiani infernali alcune figure del mito classico latino e greco e questi centauri inseguono e controllano che i dannati sommersi nel sangue bollente non escano a prendere fiato a prendere aria potremmo dire perché appena escono vengono trafitti da feroci lanci di frecce quindi una invenzione straordinaria dante come vedremo anche più avanti è un inventore straordinario di immagine di un immaginario cui neanche il film dell'orrore più spinto di di hollywood di oggi potrebbe arrivare a concepire quindi una potenza immaginativa incredibile in dante e quindi già questo è una rappresentazione dove importante noi incontriamo naturalmente non posso parlare di tutti i canti hanno questa caratteristica io vi cito quelli che hanno una maggiore capacità espressionistica violenta dura e che colpiscono ovviamente il lettore è ovvio che coloro i quali che si sono sono macchiati di assassini di crudeltà di violenza nel e di orrore nella loro vita sono sommersi nell'orrore del sangue bollente perseguitati addirittura con lanci di frecce da questa figura mitologica lì collocata in senso di guardiani veri e propri dei centauri questa figura classica dei centauri e possiamo proseguire in questa nostra carrellata di peccati nel canto successivo che non parla più di assassini cioè di violenti verso gli altri ma di coloro che furono violenti verso se stessi cioè dei suicidi è un canto molto molto importante questo perché naturalmente qui ci troviamo di fronte a un altro tipo di violenza e di peccato coloro che hanno fatto violenza se stessi si sono tolti la vita e quindi si si sono arresi alla speranza sono diventati disperati fino a togliersi la vita hanno commesso un peccato gravissimo agli occhi di dante alla cultura cristiana hanno si sono macchiati il regalo della vita è stato da loro violato e quindi subiscano una pena che sembrerebbe in apparenza meno terribile di quella che abbiamo appena visto e di altre di cui parleremo ma non meno è ferata e che non è che desti inquietudine anche perché lì naturalmente nella serie dei suicidi dante per alto incontrerà un famosissimo poeta di cui lui aveva una grande ammirazione poeta che operava alla corte di federico ii cioè pier delle vigne è morto suicida per l'appunto e sono trasformati in sterpi in sterpagli in arbusti in alberi e ogni e su di loro su questi alberi e questi sterpagli dove loro sono stati trasformati nell'aldilà incombano le arpie che beccano distruggano e lacerano questi alberi che altro non sono che membra dei corpi dei suicidi alla fine del mondo quando poi i loro corpi veri arriveranno in inferno loro siccome si sono privati privati in vita di quei corpi quei corpi non saranno come dire loro non li indosseranno ma saranno appesi come fossero degli scuoiati agli alberi in cui sono stati trasformati quindi in realtà l'orrore l'orrore si nasconde anche qua cioè degli corpi la parte esterna dei corpi come se fossero scuoiati sono appesi a questi alberi dentro cui sono come dire trasformati alberi secchi senza nessuna vitalità trasformati i suicidi ricordate sempre che nell'inferno dominano il buio le strida il dolore dei dannati è veramente un ambiente che nessuna mente anche la più di fantasia più scatenata contemporanea sarebbe in grado di riprodurre tant'è vero che tanti hanno tentato di fare qualcosa cinematografico di tratto dall'inferno di dante ma non vi sono dei risultati veramente importanti perché è difficilissimo trascrivere questa grande immaginazione terrificante di dante in qualcosa di vero naturalmente i suicidi un canto straordinario dal punto di vista poetico e anche qui naturalmente ci imbattiamo nella illustrazione straordinaria che fanno sia Blake il grande illustratore poeta romantica inglese visionario ai primi dell'ottocento e naturalmente Gustave Doré ancora più esplicito qui Gustave Doré vedete i rami da questa selva infernale che non ha vita questi rami secchi nel quale nel quale con molta chiarezza Gustave Doré espone l'immagine dei volti e dei corpi di questi suicidi che si confondono con gli alberi in cui sono stati trasformati e martoriati da queste arpie ancora un riferimento a creature mitologiche classiche che beccando quei rami e picchiettandoli con la loro con la loro con il loro becco e con la loro con i loro artigli li lacerano li torturano in continuazione anche qui chi si è tolto la vita subisce questa grave contapasso voi capite che tenete conto che ci troviamo di fronte in una situazione incredibile mano a mano che andiamo giù nell'inferno Dante fa crescere la paura il patos l'orrore delle pene e della disperazione è veramente quel crescendo di patos e di tensione che noi siamo abituati a vedere nei film di oggi nelle serie televisive dedicate ai morti viventi dedicate a a esseri come i vampiri e che sono state rilanciate nella cultura moderna della grande letteratura romantica ma quella tensione che ci viene quando vediamo appunto episodi di thriller al col fine con loro Dante le ha messe tutte nell'inferno quindi la letteratura inglese che aveva un vero e proprio mito di Dante è stata profondamente influenzata nel raccontare la paura e l'orrore proprio da questa visionarietà dantesca sembrerebbe che con questo con questo con questo siamo già a un livello notevole di crudeltà e di terrore ma più andiamo a fondo nell'inferno più Dante e più andiamo verso peccati più gravi e più terribili più Dante aumenta questa dose di paura da incutere e di efficacia narrativa da incutere nel lettore un canto straordinario per esempio qui non vi ho messo le immagini ma è incredibile a questo punto di vista per la ferocia e la crudeltà il canto ventottesimo cioè dei seminatori di discordia quelli che invitano seminato discordia e tutti quelli che sono stati hanno hanno seminato divisioni all'interno delle famiglie degli stati delle comunità religiose sono condannati a una pena terrificante veramente una galleria degli orrori e il canto dei seminatori di discordia fra cui peraltro Dante mette anche marometto ci sono dei demoni in questo caso sono veri e propri diavoli quindi non più esseri mitologici della classicità trasformati in esseri infernali ma dei diavoli tipici della tradizione iconologica medievale i diavoli con la coda gli zoccoli il colore scuro della pelle del volto gli occhi infuocati che brandiscano delle spade taglienti e terribili con le quali colpiscono lacerano e incutano ferite terrificanti da vera galleria degli orrori ai vari peccatori ogni volta che passano davanti a loro questo è una cosa è un peccatori fino che si arriva al colmine dell'orrore quando Dante si imbatte in un trovatore traditore e della sua parte politica e suscitatore di divisioni Bertrand de Born che viene rappresentato con la testa mozzata lui che prende con la mano porta con la mano questa testa che parla in sua che parla quindi abbiamo una visione veramente che va al di là di ogni possibile immaginario terrificante dei nostri giorni cioè c'è una persona che un essere che cammina in questo inferno terribile nel buio appena illuminato da qualche fiocca luce e porta nelle mani come dice Dante come una lanterna la sua testa e la sua testa parla staccata dal suo corpo quindi capite che ci troviamo di fronte anche qui in un crescendo di inquietudine di paura di smarrimento che Dante vuole far rappresentare al suo lettore attraverso questo tipo particolare di immagini attualmente l'inferno e la poesia di Dante sono tanto oltre a questo ci sono pagine meravigliose di poesia di tensione drammatica emotiva ma essendo il tema di questa nostra conversazione la paura e l'orrore collegate fra di loro e volendo risalire all'archetipo moderno in realtà di questo tipo di rappresentazioni noi ci soffermiamo su questo aspetto dell'inferno di Dante che ha inciso profondamente nell'immaginario contemporaneo ma non è finita qui in realtà il culmine degli orori noi lo raggiungiamo nella parte più finale dell'inferno ovviamente dove non vi sono più le fiamme infernali dove non vi sono più altri riferimenti ma c'è un'invenzione straordinaria di Dante in questa parte finale dell'inferno si parla dei traditori che possono essere traditori verso la propria parte politica traditori verso i propri parenti traditori verso i propri più stretti congiunti o affiliati e questi traditori quindi tradimento ricordiamoci nel medioevo era considerato il peccato più grave di tutti era il peccato per eccellenza perché voleva dire trasgredire giuramenti patti fatti anche solo con le parole ma che devono valere appunto quasi come patti di sangue tradire i propri amici tradire la patria tradire la propria parte politica tradire il proprio signore voleva dire commettere il più grave di tutti i peccati e forse non a caso è il peccato più grave di tutti ed è collocato in fondo all'enorme come dire caverna nella quale a forma di imbuto nella quale Dante colloca il suo inferno naturalmente dentro questo tipo di situazione Dante inventa una pena particolare cioè questi i dannati i traditori sono immersi nel ghiaccio sono immersi in una landa ghiacciata desolata ancora una volta la desolazione il dolore lo stridore caratteristico ma questa volta non ci sono più le fiamme infernali che sono tipiche da tradizioni anche iconologica medievale dell'inferno e dei diavoli e ma inventa una cosa incredibile che non ha praticamente precedenti se non fossi in certe dinamiche di romanzi medievali del ciclo di re Artù cioè la calanda gelata ghiacciata dentro la quale sono collocati in perenne sofferenza di freddo e di gelo i traditori uno dei primi traditori che Dante incontra è appunto Bocca degli Abati Bocca degli Abati che viene rappresentato anche come come in da da anche benissimo da queste illustrazioni d'ore guardate le illustrazioni d'ore come che sa la metà dell'ottocento che straordinarietà di illustrazione sia e come già vediamo qui in c'è quello che si evolverà in una certa immagerie moderna del fantastico e un tutta una tradizione di graphic novel anglosassone debba adorare la sua le sue radici dovrei fra l'altro per inciso altra di una commedia ha illustrato moltissimi altri testi e classici fondamentali e qui succede una scena feroce Dante una volta che si accorge che quello è proprio uno dei traditori che aveva tradito la sua parte peraltro lo prende per i capelli e lo tortura lui stesso cioè Dante con l'approvazione di Virgilio vedete qui d'ore lo rappresenta benissimo lo prende per la testa e per i capelli sei tu proprio quel traditore sei tu quello che ha tradito la mia parte politica quindi anche qui vedete all'orrore della situazione queste anime che sono benissimo rappresentate da d'ore collocate nel ghiaccio si aggiunge il fatto che Dante quasi non ha pietà per questo traditore questo vile che aveva tradito così brutalmente la sua la sua la sua parte ma Dante è un grande maestro della narrazione veramente un grande maestro della narrazione inarrivabile forse per certi versi noi ci stupiamo a volte del livello di tensione emotiva e di capacità di organizzare un film un romanzo una serie da parte degli autori di oggi ma riuscire a organizzare il materiale l'immaginario le storie a cavallare certe le vicende come fa Dante veramente difficile pensarlo a queste immagini in cui prevale l'avversione direi quasi l'odio di Dante per questo avversario politico che ha tradito ripeto e quindi per conto il quale lui stesso inveisce si avventa succede un episodio invece terribile nella nella visione feroce del crudele che però richiamo una parte malinconica e dolorosissima profonda dell'animo umano è quella famosissima che tanti di voi avranno letto sicuramente a scuola e nei programmi scolastici di del conto ugolino qui siamo una situazione ulteriore siamo sempre nella nella landa ghiacciata dei traditori e ugolì però siamo una situazione ulteriore c'è una scena di cannibalismo vera e proprio tra i più feroci il conte ugolino incombe su colui il quale ha mandato a morte lui e i suoi nipoti sulla testa di incombe sulla testa del vescovo che lo ha condannato e lo ha tempo di riprenderli ma sono terribili gli rode il cranio e il cervello capite che già in solo questi non tanti canti che ho citato come se dante in una grande tensione emotiva e tragica ci desse una galleria dell'orrore difficilmente concepibile che certo aveva delle fonti nel medioevo gli spettacoli che si vedevano nelle piazze i torturati i massacrati nelle guerre le scene di povertà di miseria di desolazione certe rappresentazioni anche pittoriche che vi erano ma nessuno raggiunge l'efficacia la forza la modernità di dante nel creare immagini e tensioni così come accade ovviamente in questi canti qui vedete ben illustrato da doré ma in realtà anche che Blake ne aveva ne aveva ne aveva dato una illustrazione ecco noi troviamo appunto rappresentate questa questa particolare come dire tragica rappresentazione della di questa di questa vicenda del conto golino il quale viene chiuso dal suo torturatore dal suo questo vescovo viene chiuso in una torre insieme ai suoi nipoti e chiuso definitivamente non gli viene dato più nulla né da mangiare né da bere e quindi i lui e i suoi nipoti muoiono per fame per sete quindi una delle morti più terribili chiusi in questa torre che è la torre dell'orrore la torre da romanzo veramente nero a cui noi oggi siamo abituati ma forse non con l'efferatezza che racconta dante e naturalmente via persino l'allusione che può darsi che il conto golino abbia anche mangiato per disperazione prima di morire la carne dei suoi nipoti ma questa è una è una cosa che la dante lascia nel vago nel testo ma che potrebbe esserci ma soprattutto è chiaro che subita questa morte nell'inferno entrambi condannati per tradimento lui e il suo diciamo signore che lo ha assassinato ed avere proprio come un vero e proprio atto di cannibalismo è colto da dante mentre rode il cervello e la testa e quando si rivolge a dante per raccontare la sua storia dante dice che forbisce le sue labbra impregnate di sangue del cervello del conto golino con i capelli impregnate il sangue del cervello del vescovo nemico del conto golino li forbisce pulisce prima di parlare le sue labbra sporcate di sangue e di resti umani con i capelli del suo della sua vittima e che che era stato il suo stesso torturatore quindi capite che siamo solo per questi accenni che io faccio di fronte a una a un crescendo di paura che il di terrore che il lettore dell'inferno oggi noi leggiamo l'inferno in modo un po' anacquato nel senso che siamo abituati a sentire questi canti e questi episodi li collochiamo all'interno di una grande dimensione poetica di dante attraverso il modo straordinario di dante di raccontare queste cose ma se isoliamo questi punti io ve ne ho raccontati solo alcuni ma tutto l'inferno è una galleria dell'orrore voi potete capire la straordinaria tensione pressione che c'è in questo racconto la straordinaria dimensione di paura che esso provoca nel lettore angosciato da questi episodi da questi eventi da queste anime implacabilmente perseguitate nell'inferno dai loro dai loro guardiani o da loro loro stessi terribili l'un con l'altro e che dante insieme alla sua guida regidio incontra concludo ricordando brevemente quello che avevo detto all'inizio questo l'inferno è la cantica sicuramente più popolare più conosciuta di dante episodi di crudeltà ritornano anche nel purgatorio e vengano ricordati persino nel paradiso dante è un autore straordinario che tocca tutte le gambe del sentimento umano ma una cosa molto chiara se si vuole conoscere l'uomo la sua storia la sua dimensione e se egli stesso vuole provare uscire dalla selva oscura in cui è caduto in una parte della sua vita bisogna saper affrontare il male fino in fondo il male non è solo il grande male ma come ha spiegato la grande filosofa Anna Arendt è anche la banalità del male quotidiano che è altrettanto terribile quindi dante analizza nell'inferno sia i grandi dannati i grandi sovrani i grandi signori o i grandi personaggi ma anche persone come Paolo Francesca ed altri personaggi che sono persone banali poco conosciute ma che hanno anche loro attraversato il deserto terribile del male e come tali il male lo ritroveranno per l'eternità nell'inferno quindi dante attraverso questo straordinario racconto pieno di tensione di immaginario di visioni terrificanti usa la paura l'orrore che gli sa descrivere con così grande efficacia come uno strumento per rappresentare tutta la gamma possibile dei sentimenti umani a cominciare da questo terribile contiguità da questa terribile contiguità dell'uomo col male e con i mali del mondo quindi siamo nell'aldilà ma dall'aldilà dell'inferno Dante nel suo questo suo viaggio guarda al di qua nella nostra terra così lacerata anche ai suoi tempi da terrore da orrori da 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 cose terribili che noi poi abbiamo conosciuto nel novecento con tutto quello che è successo guerra, olocausto, terrore quindi l'inizio colui che ha saputo raccontare le radici del male potremmo dire è stato proprio Dante nell'inferno e non è un caso che a Dante e al suo inferno ricorrano con così grande efficacia ai nostri tempi tanti autori di romanzi tanti registi tanti autori in modo ininterrotto a partire dal grande romanticismo inglese lungo tutta la cultura europea arrivando fino ai nostri giorni vi ringrazio dell'attenzione grazie a tutti